Per un Garda sempre più godibile e sempre più unico, ecco un altro esempio di sinergia virtuosa e di collaborazione fra territori limitrofi. Garda Trentino S.p.A., l'azienda di promozione turistica e la società Funivia Malcesine Montebaldo hanno presentato stamane a Riva del Garda la convenzione sottoscritta dalle parti per migliorare un servizio di cui anche il Garda Trentino beneficia, benché Malcesine si trovi già in territorio veronese. L'elevata densità di turisti ciclisti che frequentano le strade del Garda Trentino crea infatti una domanda molto alta, considerando i percorsi bellissimi che il Montebaldo regala sia a chi va a piedi e a chi preferisce pedalare. L'ulteriore potenziamento delle vie ciclabili favorirà un maggiore interscambio tra il versante Trentino del Garda e quello veronese, senza dimenticare le numerose opportunità che il Baldo offre ai praticanti di altre discipline, come il Nordic Walking e i molti spunti di interesse culturale legati alle tracce rinvenute del passaggio sul Montebaldo dell'uomo della Busa Bordeghera, risalente all'età del ferro, le cui vestigia sono conservate proprio nel Museo Alto Garda di Riva del Garda. Con l'accordo tra Garda Trentino e Funive del Baldo, sempre più si cerca di dare ai visitatori del Garda Trentino più servizi, più opportunità, conoscendo di più anche dei territori limitrofi. Sicuramente quello che ci chiede l'ospite oggi è di avere un lago di garda unito e quindi di rappresentare anche un'offerta di servizi assolutamente unitaria. L'accordo con la Funivia di Malcesine naturalmente è importante e è altrettanto importante poi agire su altri versanti che sono quelli del trasporto pubblico, dove abbiamo già convenzionato oltre al Trentino Trasporti anche l'azienda veronese, naturalmente Navigarda per quanto riguarda il trasporto sul lago e speriamo come auspicio che si possa anche iniziare il completamento di una ciclabile che veda realmente il lago di Garda unito. Quindi con la bici poter andare dovunque come si vuole? Assolutamente sì, oggi la bici è il fattore di vacanza più importante, la motivazione di vacanza più importante che c'è sul nostro territorio e quindi il fatto di riuscire a completare percorsi, ad unire territori e quindi ad unire soprattutto il baldo che dal punto di vista di quelli che sono gli scenari e anche la praticità di percorrerlo e di trovare poi una botanica unica per quanto riguarda l'Europa io penso che sia uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere al più presto. Con l'accordo tra Garda Trentino e Funivia del Baldo si intensifica la collaborazione tra due territori limitrofi soprattutto in funzione di un pubblico sempre più ampio che fa vacanza qui e vuole usare la bici. Sì sì, è importante questo accordo soprattutto non avere questi confini di province, regioni vicine, è importantissimo, il Monte Baldo è diventato veramente luogo proprio di visita soprattutto anche con la bicicletta, ultimamente Torbole Riva hanno l'esempio che con le bici fanno turismo anche in bassa stagione, è importante per noi avere questo accordo con il Garda il trasporto in cabina via delle bici e quindi per offrire un servizio ancora migliore ai visitatori. Sì, diciamo che a novembre partiranno dei lavori dove ci sarà un ascensore esterna dove potremo portare su i disabili soprattutto e anche la gente che va in bicicletta senza incontrarsi con i passeggeri che vanno su mare solo per camminare o per fare un giro così per visitare il Baldo. Dunque miglioreremo questa situazione per far sì che la bici sia una delle cose importanti da portare, da fare delle gite sul Baldo e soprattutto col bel tour che c'è che si arriva giù e dopo da Nago Torbole diventa veramente interessante. Che movimento ha ad oggi le funivie del Baldo e qual è l'obiettivo per il prossimo futuro? Il movimento portiamo su all'incirca 500.000 persone all'anno, biciclette, c'è un bel giro di bici però più gente che preferisce andare a piedi. Il futuro è quello di migliorare soprattutto la qualità del viaggio. Abbiamo praticamente quest'anno messo l'aria condizionata nella stazione, abbiamo migliorato le code facendo più vendita di biglietti, già vendendo i biglietti online e anche negli yacht di Riva e di Torbole. Migliorare la qualità dell'attesa perché purtroppo ci sono diverse code, però vediamo che negli ultimi due anni siamo riusciti a migliorarla in modo importante e cercheremo sempre di farlo più. Ormai più di 500.000 persone penso che il Baldo non può ricevere. Il cliente che va su deve essere, paga un biglietto, deve essere almeno contento di pagarlo.